Gentili telespettatori, buona giornata. Autorizzazione allo sbarco di tutte le ONG che hanno chiesto appunto di poter attraccare in Italia. Una notizia arrivata a poche ore dall'autorizzazione allo sbarco, arrivata per le navi CY-4 e Life Support. Le imbarcazioni delle ONG con a bordo rispettivamente 63 e 70 dovranno dirigersi tutte e due al porto di Livormono. Le autorità italiane hanno pertanto subito comunicato e assegnato il porto sicuro per le navi delle ONG CY ed Emergency. In entrambi i casi, scegliendo un porto molto distante dalla zona di operazione delle imbarcazioni, saranno così necessarie numerose ore di navigazione per raggiungere Livorno dal canale di Sicilia. La nave Life Support, come rende noto Emergency, ha concluso verso le 5 del mattino il suo primo salvataggio con 70 persone soccorse in zona libica e poi vediamo che le persone provengono dalla Somalia, dall'Egitto, dalla costa d'Avorio, dal Camerun, dal Burkina Faso e dal Mali. Intanto anche l'altra nave si sta dirigendo verso Livorno, si tratta della nave di Emergency. La Support Life alle 8.48 ha chiesto un porto sicuro dove far sbarcare le persone. Sono trascorse solo due ore dalla Italian Maritime Rescue Coordination Center, è stato assegnato Livorno alle 10.59. Ieri anche alla Rise Above, quindi si parla a questo punto di tre navi ONG, la Rise Above della Mission Life Life è stato subito assegnato un porto italiano, questa volta quello di Gioia Tauro. A bordo delle imbarcazioni 27 persone siriane. Con sorprendente rapidità ci è stato assegnato un porto sicuro, quello di Gioia Tauro, poche ore dopo la richiesta. La Rise Above sta arrivando, ha twittato la ONG che poche ore prima aveva riferito che le persone a bordo volevano scendere. Un nuovo approccio, quello delle autorità italiane, sulla gestione dei migranti che viene rafforzato anche dalle indiscrezioni sul decreto ONG. Una norma del nuovo codice, secondo quanto trapela, prevede nel caso di intervento in area SAR, i soccorritori dovranno chiedere immediatamente un porto di sbarco verso il quale la nave sarà tenuta a dirigersi immediatamente dopo il salvataggio senza restare giorni in mare in attesa di altri possibili soccorsi. L'obiettivo è quello di diminuire il tempo di presenza delle navi ONG nella zona dove avvengono i salvataggi. Secondo un altro articolo i soccorritori dovranno chiedere immediatamente ai soggetti a bordo che sono stati messi in salvo la manifestazione di interesse sull'eventuale domanda di protezione internazionale dei migranti affinché sia il paese di bandiera della nave a farsi carico dell'accoglimento degli stessi. Beh, diciamo che questo nuovo modo non è definitivo nel senso che è il mese di dicembre, è il mese di Natale, c'è da approvare la finanziaria che sta per essere approvata, l'Europa ha già detto sì e soprattutto da ricontrattare il PNRR. La ricontrattazione dovrebbe arrivare febbraio-marzo, in Europa le cose sono molto lunghe e per ricontrattare il PNRR non bisogna fare innervosire l'Europa bloccando gli sbarchi delle ONG. Allora la priorità è il PNRR, gli sbarchi con le ONG diventano una seconda, in un secondo livello. E così il governo sta preparando un decreto, una legge che parlerà proprio tutta di immigrazione, soprattutto quella clandestina, sta cercando anche con l'Europa di fare una sorta di piano Mattei per l'Africa, di blocco navale però chiamato appunto piano Mattei all'interno. Quindi l'Italia sta cercando di coinvolgere l'Europa per far collaborare con i soldi e è pronto anche un piano italiano. Però tutto è stato sospeso dal momento che c'è da ricontrattare, da rimodulare, rifare il PNRR perché con un aumento del 12% di inflazione non ci si sta più nei preventivi. I preventivi sono stati fatti con altri prezzi, oggi con i prezzi saliti di migli del 12% non puoi realizzare più le opere perché mancano i soldi, quindi o fai meno opere o ci danno più soldi. Sicuramente il ci danno più soldi no, allora a questo punto bisognerà fare meno opere e con i soldi di quelle meno opere vanno messi sulle opere da concludere. Ecco, questo bisogna accordarlo con l'Europa perché se non si mantengono le promesse di riuscire a fare tutti gli obiettivi entro il 31 di dicembre viene sospeso il PNRR, vengono sospesi i soldi in invio e tutto si ferma e bisogna restituirgli i soldi anche che abbiamo già ricevuto. Capite che è un disastro per il governo che poi dovrebbe assolutamente andare a casa. Quindi la priorità per il governo è far sbarcare l'ONG perché con l'Europa dobbiamo prima modificare il PNRR, se no sono guai. Questa è la mia opinione, credo proprio di non sbagliarmi, quindi gli sbarchi immediati, l'assegnazione del porto immediato è proprio questo. La Meloni dice io non lavoro per essere rieletta, io lavoro per sistemare le cose, quindi trapela che l'elettorato non sia contento perché pensavano che fermassero tutte le ONG subito, invece magari lo faranno dopo. La Meloni dice non sto a guardare i sondaggi ma sto a guardare il progetto di sistemare l'Italia che può scontentare momentaneamente anche una parte di elettorato che si immaginava immediatamente il pugno duro, ma realmente immediatamente se si fa il pugno duro poi ricontrattare con l'Europa il PNRR diventa più difficile e loro hanno la possibilità di metterci in seri problemi. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.